Buongiorno a tutti ragazzi, Dark Souls 2, un mercante non ne ero accorto, ah ancora tu, cosa vuoi in ultima parla, ah è vero forse l'avevo parlato, cosa che mi vende mercante itinerante, ma col cazzo che facciamo? Eeeh, ah mi sono ancora che ho dimenticato alcune cose a maiola e quindi, si ve lo faccio vedere adesso, ok, allora è di qua, ma mi faccio schifo andare in giro col pugnale ancora dai, mi fa veramente, mi faccio schifo, ah non possiamo aprire la porta, aspetta, aspetta, forse si, si magari, col cazzo che facciamo, ma è, Eeeh, volevi, credo ci sia, no, un angolo c'è, controllate i muri perché, sempre, sempre, fatelo sempre, io sono arrivato tipo al quarto boss, che, avevi spiego, ecco vedi colpita, colpita la cosa che, frammento di fiaschetta, dove ce l'aveva piccato? Eeeh, stavo dicendo, ah sono arrivato il quarto boss, che io pensavo, mmm, che colpivo sempre i muri con quella cosa, e non trovavo mai niente, poi mi sono reso conto, dovevo premere X, non so quanti non saltati, cazzo, ah dobbiamo andare dall'arallo di smeraldo di smeraldo di, eh, così, ma che cazzo sta facendo? Ok, no, non lo so, eh, adesso, adesso ne abbiamo due, per fortuna, con una non resi, ok, non ne ho più, ma era per verificare, questo qua, eh, questo qua è un bel pezzo, avanti a me, eh, via di passaggio, non ricordo niente, è diventato vuoto e crollato a terra, ah, giusto, qua, attenti, faccio vedere, eeeh, dov'è, ecco qua, questa porta non si apre, però voi, c'è un cosetto, come cazzo ve lo spiego? Eh, qualcosa, eh, ma ti piacerebbe, quanti fa di danni, vavero, 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 stesso, aspetta, eccolo là, dov'è, 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 eccolo, no, no, e che cazzo, vabbè, e tornerà, ci rispondo più avanti, accetta, io accetto la tua decisione, oh, che battuta di merda, sì, ok, ma che, sì, vabbè, però non possiamo usare un cazzo, in so gioco, non mi fate, elmo del soldato, ah, soldato, va bene, va bene, eh, però mi dice che non vale la pena, ma sì, che fieri che siamo, anzi, no, sapete che vi dico, usiamo la, spada dritta, per spezzare le cose, che tanto non la useremo mai, oppure, oppure ci rotolate, che tanto, la bevo quando dovrebbe essere, no, aspettate, aspettate, controllate sempre, guarda se si spezza, guarda che si spacca, oh, finalmente, ah, ah, non c'è niente, e qua? qua, guarda me, non sapevo di questa porta, ah, sì, ah, sì, sì, sta qua, sta qua, non la ricordo, wow, 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 no, 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 è in zona mia, tu non ti alzi, va bene, uno stupro, proprio, non gli ho fatto neanche capire dove, dove era, che l'ho già ucciso, che ho tirato tanto, spesate, ok, non è un mimic, controllate sempre, ah, già, ho trovato il modo di distinguerli, vi dirò, appena mi trovo uno, vi dico come distinguerlo, e, bel lavoro, a ogni modo, non ha, ben fatto, aspetta, 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 ce l'abbiamo fatta, sì, ok, ora andiamo, oh, merda, ok, che testa di cazzo, eh, sì, va bene, siamo bellissimi di costruire il mo, no, io ho un'idea, andiamo avanti con il cosetto qua, perché qua giù li troverete due, ve lo dico già perché io, io leggo nella mente di me stesso, e io torno su, avanti, non dirmi che è dall'altra parte, ma, scusa, ah, capito, non mi ricordavo più che tu, non è, allora, se muori cadendo, tu non, prendi le anime, non le vai a riprendere, dove sei morto, caduto, ma da dove sei saltato, eh, che schifo, cazzo, nemico minore più avanti, vabbè, ah, e ti sta, ci sta bene là sotto, teniamolo fermo, teniamolo fermo, ok, 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 basta far cazzate, va bene, basta far cazzate, ok, una è cazzata, è andata bene, due, ok, meglio ancora, ma, ho visto che, aspetta, dove è lo scudo, e sto qua non possiamo usarlo, ma, guardatelo, non è uno scudo, è un cappello, è un cappello, guardate, 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 è quello che ho in testa, io non posso neanche usare, aspetta, no, 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 aspetta, 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 eh, meno 30 qua, ah, ascoltate, a me basta uno scudo, non mi interessa, non sono pignolo, mi basta averne uno, anzi, aspetta, non sono anch'io, cosa cazzo a fare, no, 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 aspetta, e per sti qua è meglio la spada dritta, perché sei più veloce, agile, e cazzato, quindi, eccolo là, il mister, il tizio con la lancia, merda, senti, io ho finito questo gioco, va bene, quindi, sia me colonna si è ringrazzato, figlio di puttana, e ho perso, come dire, armatura da cavaliare delete, bello, acceio Braden, un'ottima difesa, eh, mica tanto, più avanti nel gioco, capirei che fa schifo, senti, io direi, teniamo sto scudo, perché, ma ci si è dimenticato del contratacco, perché io, giuro, non ho mai contrataccato, non ho mai fatto il contratacco con scudo, in tutto il gioco, you mother fucker, oh, stuato, stuato, vieni qua, fila di puttana, eh, l'ho messo nella, oh, uscita, sì, ok, ma, ma vedete, com'è questo gioco, tu, prendi un colpo, e sei morto, e po', ok, sto cominciando a ingazzarmi, va bene, ok, io non so giocare, non so giocare, ma poi, ma sto coso non pare a un cazzo, non pare a niente, facciamomi un piacere, metti una spada da una parte, la spada dall'altra, fai, spada a pugno, spada a pugno, è meglio la spada, quasi, quasi, ma perché di sto passo, o facciamo farming, o facciamo farm, e così ce l'abbiamo fatta l'altra volta, allora, non gli dai un attimo di pietà, per culare i nemici, lo stiamo facendo bene, ah, e, mi stanno per culare i nemici, cioè, allora, tu prendi una spada, corta, prendi una spada corta, e cominci a bersagliare, di come dei dannati, così, dietro, mordi, tattica del mordi e fuggi, non mi ha preso, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta, come cazzo ci siamo riusciti, allora, in modo ignobile, ce l'abbiamo fatta, questo qua è morto, giusto, ok, ok, no, perché vedi, si rialza piano piano, questo mi andro, così, e mi ammazza, e, qua non credo che possiamo andare, un oggetto, un oggetto, ma, è andata a barda, star di serviva la chiave, e, no, perché c'è anche un buon oggetto, lì, spoiler, aspetta, aspetta, ah no, lì, non si può andare, io, non so cosa fare per primo, perché, la una parla, e d'inculano sempre, sì, non c'è a cagare, vi prego, dai, io, usiamo il pugnale, no, il pugnale non è dato contro sti go, buio, eh, ah, va bene, non vi spiego, perché, fan, culo, disperazione, quando, quando manchi un colpo, dopo che così, non andiamo avanti da nessuna parte, faccia schifo, e, basta con questo, ecchio, dare sus2, pressione, è chiuso, non è, non abbiamo, tante anime, ma neanche poche, cioè, possiamo farsi un potenziamento, possiamo potenziarci il mento, un po', ah, e questo qua, dovete trollarlo, non dovete combatterlo, osservate, e di, è arrivato, tutto in modo ciccioso, tutto in modo, in modo di sfascio la testa, vedi, no, merda, non è mancato, vedi, questi, questi pareti sono esplosivi, visto? visto come si muore, mille modi per muovere, questo è uno, perché, aspettate, se non sbaglio, uno, gli sti bimbi, le bombi, è giù, e, ti copiscono le spalle, ok, vedete, sto qua e qua, e, vabbè, è morto lo stesso, è morto lo stesso, un cazzo, ancora vivo, ah, già, dopo, non vi dico, allora, sappiamo, eccolo là, eccolo là, non quello là, dalla cereva, ecco, questo qua, adesso è in su, visto? come, e lui non si aspettava che io lo aspettassi, quindi, come promesso l'ho ucciso, gemma vitale, devo smettere di dire vitale, e, allora, sarebbe un, una mossa suicida, ma, io non so se andare, ok, allora, no, qua, qua è difficile, è difficile, uè, che cazzo, che cazzo è un, ah, tornate giù, subito, subito, perché se ne arrivano due, che cazzo è quello Megatron, non so, persecutore, usa volo, pipi, 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 se non è che sono la canzoncina sotto, di volo, aspetta, non è che mi viene, sentite, io sono lo spaisato, va bene, non c'è entrato nessun, come faccio a vedere, non c'è neanche un buco per la faccia, per gli occhi, cioè, adesso vi avvicinate un po', eccoli si alzano, questi qua dovete backstabarli, ma se non ho uno scudo, come faccio a backstabarli? ha un bel modo per backstabarli, è il pugnale, ma, uno alla volta, vi prego, dai, avete, abbiate pietà, vi fredda, abbiate pietà, mi rotolino intorno, monovere evasiva, monovere evasiva, monovere evasiva, via via, ciao, mi scuso se non ti ho combattuto, mi hai seguito fin qua? allora, lui, è tranquillo, vi giuro che mi sono cagato in mano, ho detto, ma si verrà una alla volta, come sempre, tutti, tutti arrivano in gruppo, oh cazzo, arrivano a uscire a rendere, non ti manca ancora, no no no, vieni più in qua che, faccia la cera, maledetto, e cerca di stuprarmi in tutti i modi possibili, ok, meno uno, Dark Souls è così, voi non potete farci niente, dovete per forza, allora, o mi stuprano da dietro, o mi stuprano, ah, pugnale da bandito, bene, 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 abbiamo un altro pugnale, e si, no, ok, ma che cazzo, visto che ne abbiamo un'altra, usiamo l'altra che è intatta, questi qua, per questi qua va benissimo la spada corta, anche spezzata, basta che colpisca rapida, e, no, in dolore no, deve essere dolorosa, e dai, tonto, 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 e ti bestavo con tutta la nuova lanza, fa quell'altro, fa che quell'altro non venga, fa che quell'altro non venga, no, non lasciateli, porco il muro, con che scatto, è venuto qua con uno scatto disumano, come un, questo qua la lanza, non possiamo schivarlo in lungo, e, vuoi attaccarmi o, cosa? Ma l'avevo preso, oh, questa è stata combattuta, ora, quello la, eh, sì, c'è quello la con la bomba, dentro, cosa sobra, ma quello la cerca di nascondersi, che sta facendo? ma, che, che, che cazzo sta facendo, cioè, se mi vuoi sono qua, eh, porca putt, ecco perché non mi avvicino mai troppo, ok, abbiamo già finito l'estus, è il problema del, wow, dove fai gli sfidino? oh, che cavolo, calmati, ok, ora, ora, no, ora le penite, ma perché il muro deve essere sempre in mezzo, se non fosse per i muro, si eviterebbero, centinaia di morti, se non ci fossero i muri, su sto gioco, ok, adesso, c'è, no, io non mi fido di andare da così, tutto, tutto contento, me le da, ha le bombe, io non ho un cazzo, abbiamo due pugnali, oh mio dio, vinciamo la battaglia, perché abbiamo due pugnali, ok, andiamo avanti così, e non so che cazzo fare, ce n'è un altro qua per caso, no, ok, prendiamo tutti, effigie umana, bene, torcia, neporaccia, e il frammento, sì, all'inizio ne trovi tanti, dai, sono qua, sono qua, cali giù, ok, ok, abbiamo una preoccupazione in meno, polvere riparante, che cazzo guardi, eh, plebeo, guarda come mi, il tipo, prima o poi dovrei, prima o poi dovrei scendere, lo sai, vieni qua, vieni qua, eh, uno, mi ero dimenticato che aveva le bombe, tu, non usi le tue bombe un'altra volta, per il bene dell'umanità, ecco, guardalo, guardalo, pom 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 pom, arriva con uno scatto tipo, che bold, levati che sei un, o che cavolo, però, ammettiamolo, che cammini, che corre come un orecchitico, eh, chissà cosa avrei pensato, wewewe, calma, calma, ma ecco, ecco perché non dovete mai schivarlo in lungo, e un altro, no, oh, oh, ok, sono le più combattute, quelle all'inizio, ok, non hai un ca, ce l'abbiamo fatta, si, ah beh, c'è quello là che mi versaglia, e non so cosa vuole, e non so cosa vuole, non so cosa vuole, ah, com'è che si andava di là, ah, già c'era un altro, non mi ricordo, vabbè, lo faremo quando saremo più forti, cioè non adesso, guardalo che cambera, ah, giù qua, e, ah, giù qua, viva l'italiano, ok, io non so cosa faremo, con un pugnale, ma, lo faremo, ok, dovete continuare ad attaccarlo, finché non, finché non decide di morire da solo, ecco, non so quanto abbiamo rischiato, ma, comunque le alabarde su sto gioco, a me non piacciono, cioè, io non le uso per, perché non mi piacciono, cioè, son lente, di danni, non ne fanno così tanti come pensiate, poi, cioè, sono un mezzo suicidio, poi ti lascia uno scoperto per mezz'ora, ok, non avvicinatevi al buco l'arbito, non avvicinatevi, non fatelo, perché poi escono in 50 soldati, ah, di andante, sì, sì, peit, ricordatevi sto nome, peit, ah, ah, ok, banditi, fare attenzione, ah, c'è un tesoro, perché hai il suo anello, lascerò che ci pensi, che figlio di puttana, lascerò che ci pensi tu, tua madre era una puttana con una sola palla, ah, ah, ok, ok, non avvicinatevi, non avvicinatevi, perché sono forti, sono forti, allora, io farei tanto, alla guacbar, ok, ok, questo qua, qua è in pausa, pranzo, non so perché l'ho fatto, sono un suicida, 3, 4, 5, 23 pugnalate come Cesare, ritieniti fortunato a morire come Cesare, anche se ne andate 5, non 10, non 23, allora, e, allora, sono in due, noi non siamo ancora forti, per affrontarne due, quindi, ce ne andiamo, con tutta la calma del mondo, va bene, ok, wow, oppure, non so neanche io cosa dirvi, balestra, oh, scommettiamo che non possiamo neanche usarla, ma do quanta ragione ho, non potremmo mai fare niente in questo gioco, io in realtà dovrei fare una cosa molto semplice, dovrei tornare indietro, potenziarmi, ma non lo faccio perché sono un, ok, 1, 2, ah già, la balestra, stavo pensando, usiamo la balestra, visto che siamo, ma non ce l'abbiamo, eh, cazzo, ok, ok, occhi, fatto, ce l'abbiamo fatta, anima di soldato ignoto, e, madonna, non so come vi ho fatto, e, questi, questi sfasamenti di colori non mi piacciono, cosa? oh mio dio, questo non lo sapevo, a che torcia, non fa da, vabbè, fa da anima, allora, 1, 2, 3, e, raga, sono in 3, ma cosa vogliamo fare, torniamo indietro, e vergogniamoci di noi, aspettate un attimo, quanta forza ho, 8, 8, 8, che cazzo, ma quanto serve per il pugnale, 11 di destrezza, 10 di destrezza, per la spada corta, accetta, oh, io direi potenziamoci la forza, e chi se ne frega, ho fallito, e poi ho fallito, ah, sono quelli là che si addestrano con il manichino, oh, caduto, qua c'è un carretto, la c'è Peter che sta pensando, li ruberei la lancia, se non fosse un figlio di putt, e, ok, allora, lì qua, piano, io, allora vi dico già, che ci sono i nemici, no, o sembra meglio controllare, no, direi tipo, andiamo nudi così, tanto non ci prendo, ok, piano, piano, mi raccomando, vi dico, vi dico, dopo adesso vi dico perché, andate piano, piano, capito, capito perché, e se non, se non vi basta, avete visto quanti ce ne sono, guardate, uno, due, tre, sono in sei, no, forse cinque, non lo so, vai comunque, arrivo a questo gioco, già due sono, non è il mero ma, ah, uno si è sbattuto così tanto, via, via, a l'ora di combatteremo un altro giorno, un'altra volta, perché, cosa la possiamo fare con queste capacità, non ce la possiamo fare, punto, basta, poi l'altro giorno, prenderemo un'altra volta, quindi, ai, lascerò che si messe tu, ottimista, amico più avanti, stanno andate lontani da qui, allora, io non so se andarla, ma là c'è uno stronzo, due stronzi, no, uno, non so cosa fare, no, 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 torniamo indietro, perché io mi ricordo, che se ne erano due, che facevano la guardia, e, eh già, quindi dobbiamo, assolutamente, potenziarci, io dico, c'è un modo effettivo, ma, quanti sono che ci puntano, uno, sono in due, sono due serie che ci puntano, va bene, e, quindi, bocciata, potenzia, io mi, potenziamoci, che, abbiamo, oh mio dio, la testa, conficcata nella colonna, facciamo, potenziamoci, o almeno, che ne so, parliamo questa vecchia, eh sì, grazie, sì, sono appezionato a questo posto, ok, allora, questi non servono a niente, l'accetta ce l'ho già, l'arrandello, non lo voglio, Kestus, vai a fare a pugni, intoniamo a maiula, e ci potenziamo, abbiamo anche un frammento di fiaschette, è vero, ah già, usiamo le anime, quelle poche anime che abbiamo, cos'è questo, frammento di fiaschette, ah già, usiamo tutte, perché, vedete, vedete quante anime abbiamo, adesso, oh ma adesso, viste, viste così, sembrano, un po' la benedizione, divino, e più avanti, tipo, che sta roba, buttala via, le usi, le usi come carta igienica, allora, potenzia, bene, un'altra fiaschetta, fatta, ora direi, portiamo la forza, 13, tre, che culo, 13, destrezza, 11, e, allora, non so se portarla, no, porca puttana, e, vabbè, volontà serve a poco, perché, non serve, adesso, adesso, non serve a niente, adesso deve andare più su rude, perché, portare pochi incattesimi, quindi direi, facciamo forza brutta, dovevo fare vitalità, forza, vitalità, adesso, possiamo usare il pugnale, spada, accetta, balestra, la possiamo finalmente usare, lo scudo, ah, già, destrezza serviva, che testa di merda, che sono, vabbè, i dardi, mettiamo i dardi, intanto, forse di ferro, non so dove l'ho trovata, almeno, ho una, ah, ce l'avevo la, ce l'avevo la, arco, non potevo usarlo, qua, al posto di quella spezzata, usiamo, spada cuorta, e qua, invece, no, senti, senti, siamo già, oltre, direi, pugnale, un po' passato in prove, no, un po' passato in prove, pugnale, ok, e invece questa, allora, qua, si è già più lenti, per l'accetta, invece, siamo oltre, la mazza, non possiamo ancora usarla, e, allora, direi, quanto peso abbiamo, accettabile, sì, ma è vero, ecco, così è meglio, un'accetta a due mani, mi sa che sei più veloce a due mani con l'accetta, o ricordo un gioco, non so se lo conoscete, era tipo, Night of the Temple, due o tre, non mi ricordo, dove, è stato tutto il gioco con l'accetta in mano, va bene, era tipo identica, l'accetta, va bene, probabilmente non lo conoscete, cioè, è identico, però, allora, lo pegnalo, accettiamo la sua offerta, e lo uccidiamo, queste battute sulle accette, mi fanno schifo, però le uso sempre, guarda, ti accetto la decisione, tre colpi andato, ammazzata qua per topati, e, signore, adesso sì che possiamo essere competitivi, però, mi piaceva piacere, mi sta accetta, poi la resistenza, io mi ricordo che l'ho usata tipo avere un gioco intero, senza andare al falò, durava, scusi, oh, si è svegliato, non volevo dirle che sono arrivato, e adesso chi ci ferma più, con un'accetta come questa, tre colpi, mentre prima col pugnale dovevano tagliene, dovevano fare tipo Cesare, 23 coltellate, se no non morivano, guarda che l'ha visto qua, ah già, senza, quegli esplosivi è una roba, senza esplosive forte, senza esplosive, senza esplosive, a volte, aia, preso anche me, ci siamo, avete presente, la disperazione nei vostri occhi, quando state per muovere, mi passa la vita davanti, identico, perché mancava veramente poco, allo schianto della mazza, qua, facciamo, facciamo tipo per level up, qua, attiriamo, ci allontaniamo un attimo, possiamo creare che, ne so, qualcuno si disperde, spero, vedo già uno che arriva, tipo, tipo, c'è una epica pom, 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 aia, 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 ragazzi, io sono qua per uno solo, di voi due, perché siete in tre ora, no, ma porco lo scalino, c'era un cazzo di scalino, che mi bloccava, se no, se no, sarei scappato, non era qua, era più, ah già, possiamo andarti sopra, a uccidere il, quella specie di, merdaccia, andiamo, ah colpisce verso il basso, bene, perché se no, non è un problema, ma che ca, ok, odio quando succedono ste cose, ok, non l'avevo visto, scudo piccolo, ok, ora si comincia a ragionare, va bene, e la, cominciamo a ragionare, ora, forse è anche meglio di quello, aspetta, e qua mettiamo la palestra, adesso si ragiona, con uno, come uno, come uno, ma eravamo di barboni, di merda, ah, ma uno singolo, faceva l'affondo per terra, non a due, dunque, fa bellino, come, bellino, come cosa, a me pare un capezzo, non so, non so a voi, c'è, bianco, con un punto nero in centro, chi vuole intendere, intenda, no, non faccio la battuta del camper, va bene, ora torniamo lì, e, l'uccidiamo, perché sono importanti, questi insettini, visto, e se si scappa, come, ma che era morto, no, io riprovo, finché non muore, eh, adesso rifacciamo, non mi fa l'ore, ritorna, e rifacciamo, che cazzo, ma sta mercante qua, non ce ne va più, perché c'era uno, con lo spadone qua, a sti livelli qui, ce l'ha messo di tempo, per superarlo al livello, oh, oh, finalmente, dai, titanite, che, sbaglio, mi ha dato uno solo di anima, possiamo che è quello, che, non si sa mai, fatto, però sempre più lenti, con una mano sola, vi dico, andiamo a riprenderci le anime, e siamo tutti contenti, quindi, andiamo, anzi, questi qua, dico, stiamo con due mani, che, siamo stati bene, fin adesso, uno, due, tre, andato, ma, però, parrà, parrà anche bene, se non abbiamo subito, così tanti danni, sì, ma sì, leveliamoci, tanto, quindi, anzi, sono animi facili, ora, ora, per mano, se c'è questo qua, morente, qui, che, ora, ora, forse, anche quattro colpi, ma, niente di roba, ma, devo stare niente, il panzone, che, cioè, quello là, covrazzato, che, magari, se lo butta al culo, di nuovo, eccolo, arriva, ecco, e bravo, coglione, eh, si, vedi, stai con un colpo, di ascia, ad ascia, adesso, mi trovo, un cazzo, quindi, pensate, prima, se andiamo col pugnale, ma, e che, che debba, andar lì, così, per divertimento, mi sa che non ci hanno, ancora visti, vabbè, uscidiamo questo, intanto, morto, quello giù, spero, non se ne corga, sta arrivando, eccolo, vabbè, aspettiamolo, dai, dai che sono qua, ecco, ti guarda, vedi che non era difficile, ora, confio la tua cetta, la star, ma, e nasce, sbaglio la stessa, no, no, quella la lascia, da, da fante, e io, la cetta, da legno, che forse è anche più forte, ma io, ho tirato avanti, per un bel pezzo, con la cetta, ho ucciso, un bosco, ho ucciso, quello la che è passato in volo, quello la l'ho ucciso con la cetta, eh, cioè, pare una roba grezza, tutta, che schifo, una cetta, sarò una cetta, invece, cazzo, fa danni, volevo backstabarlo, volevo backstabarlo, vabbè, non siamo fatti per il backstabbing, scappiamo, ok, aspettiamo che ne scenda uno, aspettiamo che ne scenda uno, uno scudo, è proprio, è proprio piccolo come scudo, c'è una cacchetta così, cos'è, un cadavere, ho sentito, ho sentito, ho sentito, se fosse un nemico, muori, muori, ti prego, non dimmi che, non è, non è il soggetto, ok, mi sa che non è che è morto, non sta a dirmi che è vivo, no, 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 non è possibile, terzo, uno, due, tre, due, due leggeri e uno, forte, un'ottima combinazione, oh, si beccava i barili, erano cazzi amare, due, tre, fatto, ora andiamo a uccidere lui, capito bastardo, veniamo a uccidere te ora, sono qua eh, dai, un altro po', fatto, ha lasciato, un oggetto, no, backstabato in pieno, oh, realzati adesso, hai coraggio, dai, siamo deboli, oh, backstabato, da meraviglia, andiamo giù, ok, ah bene, andiamo a pezzo, parliamoli, diciamoli, ciao, come stai, ma vai a fanculo, e mandi me da solo, grazie, aspettate che lo fisso, ver bene, bene ragazzi, è stato impegnativo, siamo arrivati fin qua, e continueremo, continueremo, la prossima volta, e continuate a seguirci, qui. Grazie a tutti.